Nessuno di voi rimarrà per portare testimonianza, ma se anche qualcuno scappasse, il mondo non gli crederebbe. Forse ci saranno sospetti, discussioni, ricerche di storici, ma non ci saranno certezze perché noi distruggeremo le prove insieme con voi. E quando anche qualche prova dovesse rimanere e qualcuno di voi sopravvivere, la gente dirà che i fatti che voi raccontate sono troppo mostruosi per essere creduti. Dirà che sono esagerazioni della propaganda alleata e crederà a noi che negheremo tutto e non a voi. La storia dei lager saremo noi a dettarla. Così si divertivano a torturare con le parole le loro vittime. Dopo decenni dei fatti che oggi ricordiamo, noi siamo sicuri che la memoria sopravviverà, anche se sono rimaste soltanto 15-16 persone a poterle raccontare di persona come testimoni. Sono stati testimoni popolari. Noi dobbiamo trasmettere la memoria di fatti orrendi che hanno ripeso la dignità dell'essere umano in senso assoluto. Sono fatti che non devono più ripetersi. Per questo motivo questa scuola si impegnerà in ogni momento a sradicare qualunque sintomo, qualunque segno di discriminazione di qualunque genere. Lo dobbiamo fare in memoria di coloro che hanno subito quello che voi sapete.